Lega Ambiente è presente il nuovo Green Deal per l'Europa, da un nuovo pacchetto energia al piano d'azione Zero Pollution. 13 pilastri, 16 priorità ambientali per fronteggiare la crisi climatica ed essere più competitivi ed inclusivi. Questa mattina l'incontro a Campobasso. È un tour che abbiamo iniziato l'8 di maggio a Roma, dove nella sede del Parlamento europeo abbiamo incontrato i principali leader di tutte le forze politiche. italiane che si candidano alla prossima legislatura europea. Noi con l'agenda, un nuovo Green Deal per l'Europa, proponiamo un patto per il futuro ai 76 europarlamentari italiani che chiediamo di sottoscrivere un'agenda fondata su 13 pilastri che vanno dalla politica climatica ed energetica alla politica economica e finanziaria, alla giusta transizione, al piano Zero Net Pollution, al piano industriale e soprattutto alla nuova politica di investimenti. Oggi abbiamo presentato l'agenda europea di Lega Ambiente. Crediamo che sia importante parlare dei temi ambientali in un momento storico, quale è quello che stiamo vivendo, appunto in Italia ed in Europa, in cui queste tematiche, diciamo, sono state spesso cavalcate in maniera negativa per mettere contro i temi ambientali e contro i cittadini. L'agenda che abbiamo presentato oggi è un documento molto corposo che parla di diversi temi che comunque se vengono affrontati possono migliorare la qualità della vita dei cittadini europei.